Sindaco, emergenza, coronavirus, com'è la situazione nel comune di Levanto? Attualmente sul territorio levantese c'è un solo caso di positività al Covid-19 ed è domiciliato a casa. Non abbiamo nessun caso di sorveglianza attiva, abbiamo ancora un nostro concittadino che è ospedalizzato e cui giuriamo una pronta guarigione. Ecco, ci stiamo avvicinando alla cosiddetta fase 2, il comportamento dei cittadini deve essere ancora più responsabile. Questa mattina abbiamo lavorato con gli uffici comunali per predisporre un'ordinanza che armonizzasse l'ordinanza della regione Liguria e il DPCM firmato ieri dal Presidente del Consiglio. Era necessario mettere in chiaro quello che ogni cittadino potesse o non potesse fare onde evitare spiacevoli inconvenienti in caso di infrazioni o di interpretazioni sbagliate delle normative. In questa fase il mio augurio è che si riesca a riprendere e percorrere e terminare questa fase 2 in maniera puntuale e precisa. La raccomandazione che faccio ai miei concittadini è di mantenere comunque le regole igienico-sanitarie che abbiamo mantenuto fino ad oggi e di mantenere la responsabilità civica che abbiamo mantenuto fino ad oggi e sicuramente potremo terminare in maniera positiva questa fase 2 e cercare di tornare il prima possibile alla normalità.